Aiutare i cittadini a districarsi nel dedalo delle fermate ANM di Napoli con un po' di fantasia e marketing 2.0. Adottare una fermata iniziativa nata dall'idea di LMF Italia è un modo per sponsorizzare le fermate, attirare l'attenzione e la curiosità di quanti nei prossimi mesi si ritroveranno ad attendere i pullman alla fermata Marinella piuttosto che il caffè Gambrinus o altri brand cittadini. Un modo per rendere Napoli una città sempre più smart, come conferma l'amministratore delegato LMF Italia, Salvatore Vernice. Abbiamo iniziato da pochi mesi, abbiamo già fatto adottare oltre 100 fermate con i nomi più prestigiosi, molti nomi prestigiosi di Napoli, da Marinella ad Amarelli, all'Otti Casacco, Farmacia, Cavour, ma ora non ne posso elencare tutti quanti perché sarebbe complicato, però c'è stata un'adesione veramente significativa e con tanto piacere da parte degli imprenditori di legare la propria attività a un servizio pubblico di cui per realizzare una città smart avremo sempre più bisogno perché il servizio pubblico diventa uno strumento veramente unico per muoversi meglio nelle città. Adotta una fermata? Non vuole essere solo un'iniziativa di marketing e immagine, ma anche un modo per riavvicinare i cittadini al trasporto su gomma, dando la possibilità al trasporto pubblico di avere introiti da reinvestire per migliorare i mezzi di trasporto. Ascoltiamo l'assessore alle infrastrutture e alla mobilità del comune di Napoli, Mario Calabrese. È una bellissima iniziativa perché coglie due momenti importanti, uno che è un'occasione di marketing per le aziende napoletane e quindi è un'occasione di pubblicità per le aziende, nel contempo dà la possibilità anche all'azienda pubblica di avere degli introiti, cosa che non è di poco conto di questa epoca. Io, come ho già detto, penso che voi sappiate che negli ultimi anni c'è stato un calo della domanda di mobilità, cioè significa che ci sono meno persone che si muovono in città, ci sono meno persone che si muovono anche con il su gomma e ci sono meno persone, a caso della crisi, si muovono anche con i trasporti pubblici.